cosa mangi cosa mangi farglielo vedere sarà 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 fai vedere a zia cosa stai mangiando si chiama crostatina e poi dice ciao a sonia e a zio zio massimo pulisci la bocca bene no qui devi pulire vedi qui vi mandi un bacio una zia una zio una sonia dai e lo devi dire quale per zia e quale per sonia e quale per zio massimo per sonia ok mandalo poi per zia e per zio massimo ok ciao i love you ciao i love you